Ciao raga, salve amici, benvenuti a questa diretta del pomeriggio, un secondo che... Siamo una cosa con Palworld. Onestamente, come scrivo nel titolo, io non so bene cosa aspettarmi. Diciamo che già sto... Diciamo che questi meno introduttivi mi preoccupano un po', perché... I giochi che ti fanno gestire stanze così... Non so, tendenzialmente mi fanno meno un po' d'ansia. Però vediamo un po'. Allora, nome del mondo. Coccia. De morto beach. Ok. Seleziona. Multiplayer. Devo sceglierlo. Mettiamo off per il momento. Difficoltà normale. Personalizzare le difficoltà. Ok, normale. Conferma. Sì. Ricordiamo che il titolo è disponibile da oggi su Game Pass. È... Credo principalmente un survival game. In questo mondo ho volato da questi PAL, che so, tipo Pokémon. che però per catturare gli spari. Una volta iniziato il gioco non potrei modificare ultimamente il personaggio. Questa possibilità sarà giunta in un momento successivo. Ok. Corpo. Tipo 2. Mi fa un po'... Comunque... Pal... Che proporzioni c'ha questo corpo, volto? Va bene. Quanti addominali ha? Troppi! Credo... Credo che siano troppi. Allora... Ehm... Va bene. Colore degli occhi... Un po' meno. Ok. Colore delle sopracciglia. Va bene. Diciamo... Un po' marrone scuro. Durazione... Così. Va bene così. Ciao Rick! Gli addominali non sono mai troppi, dice Dami. Vabbè. Hai ragione però, eh. C'è nel senso. Ma si capelli! Ehm... Oh... E' già... E' già... E' già perfetto. Non devo fare praticamente nulla. Ehm... Colore dei capelli... Color carne. Ok. Guarda, giusto per... Diciamo uniformità. Voce. No. Ok. Va bene. No, sto a posto così. Grazie. È a posto così. Del corpo posso scegliere altre cose? Magari cercare di renderlo meno deforme. Posso? No. 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 Deforme... Ehm... Beh, è la strada giusta. Va bene deforme. A questo punto posso essere una tartaruga ninja? Posso essere una fantastica tartaruga ninja? Perché no? Perché... Perché no? Ecco qua. Ehm... Ehm... Ecco qua. Vabbè. Vabbè raga, non riesco a migliorarlo. È impossibile. Posso fare o un modello... Ho schippato il lag day oppure stacce. Deciderò di starci. Ok. Inizio a giocare. Sì, guarda. Va bene così. Quindi mi salvano dei pulse. Beh, esattamente come avrei reagito io. Però dai, caruccetto il... Beh, chiaramente il design... Non è che richiama. È proprio... Ehm... Diciamo... Clona... Chiaramente... Tutto l'immaginario... Ehm... Delineato... Da... Da... Game Freak... E... E poi ripreso anche da tanti altri. Gli altri, eh. Però... Pazza che... Che orrore. Ottieni il legno raccogliendo... Cioè il primo... Il mio primo compito è raccogliere il legno. Ma innanzitutto... Ma io che... Che opzioni grafiche c'ho? Così. Grafica. Qualità alta. Vabbè. Diciamo che mi accontento. Campo visivo. Tanta. DLSS è spento. Non mi sembra che ci sia alternativa in questo momento. Ok. Mmm... Sì. Vabbè. E Pokémon con la brusca venata prima di venire l'annuncio per Pludge. Bellissima definizione, Punk. Allora, vado a raccogliere i... I rami. Gli alberi. Secondo me sono andato già nella direzione sbagliata. Perché mi sa che tu non la spiaggia. Ma posso correre? Sì, ho la stamina. Ok. Ciao, Panjo! Grazie per questi 42 mesi. Ben ritrovato. Come stai? Io sono già pronto a sparare a dei Pulse. Ok, qui c'è un cazzo. Benissimo. Però devo dire che non è spiacevole, eh. Eh, dal punto di vista... Grafico. Cioè, mi aspettavo onestamente di peggio. Apri... Come... A parte che è sottoterra, ma... Che... Ok. C'ho l'anima di un pa... Cioè... Manco ho cominciato a giocare e già raccolgo l'anima dei miei alleati. Bellissimo. Come nella vita vera. Come nella vita vera, amici. Ma a sto punto, guarda, mi metto pure l'occhiale per non essere... Avvagliato dalla meraviglia di questo gioco. Chialino tattico. Oh, ti è, ti è, ti è. Quello... Vorrei essere mio amico. Ma perché sono l'unico... Ma perché non c'ho manco un paio di calzoni? Ma... Cioè, nel senso... Vabbè. Allora, aspetta, raccolgo il legno. 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 Pronto andare in menu... Apri il menu, che sarà questo. Nella sezione opzioni per consultare il manuale di sopravvivenza. Vabbè, quello... Lo sta. Si vuole il manuale di sopravvivenza. Diciamo che ci accontentiamo. Scegli banco da lavoro primitivo per iniziare a costruire. Ma qui non c'è stava tipo una creatura. Ma... Tipo un secondo fa c'era una creatura. Ah, sta là. Se è andata. Giustamente. Non è che sta qui e aspetta a me. Ha ragione. Ma alla fine è un survival? Ma credo che anche all'inizio fosse un survival. Però eravamo tutti abbacinati dal fatto che potevi sparare ai mostri. Ai... Pulse. Cioè, non dico... Non dico Pokémon per non beccare una denuncia. Però, eh... Insomma, questo è. Ah! Lumball. Che è una pecora. È una... Gatto. E gallo. Ok. Va bene. Costruisco... Il banco da lavoro primitivo. Mi servono quattro, io ce ne ho due. Vabbè, vado a raccogliere... Questo chi è? Sì, ma... Vabbè... Andre Ferlon... Non è... Bello. Però onestamente... Cioè... Diciamo... Tecnicamente. Però onestamente... Mi aspettavo peggio. Mi risulta... Tutto sommato piacevole. Cioè... Lascia perdere il fatto che il personaggio mio... È una piramide di addominali. La condosnora è bellissima. Allora... La parte è migliore. Vabbè... Io non... Cioè... Ho solo fatto finta di ascoltarti. E... Quindi adesso posso costru... Ai punti statistici utilizzati... Non sia mai. Ma... Dove sta? Dove... Questa è la mappa? Punti statistiche dove? Qua. Scusa, eh. Potenzia statistiche. Pv. Resistenza, attacco, difesa... Velocità delle attività... Peso totale. Allora... Come la tradizione... Metto prima l'attacco. Conferma. Ok. Tecnologia. Costruiamo un banco da lavoro primitivo? Non posso? Evidentemente... Non potrò qua. Per iniziare a costruire. Ma dove posso costruire? Vado là. La potrò costruire. Non posso costruire dappertutto. Ho preso pure una pietra, va. Bellissima animazione per raccogliere la pietra. 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 Non lo so. Bacche. Bacche, bacche. Tutte bacche per lui. Ok. Allora, qui ci costruisco il mio ottimo... Anzi, no. Qui in mezzo alla piazzola. Il mio ottimo banco da lavoro. Ecco qua. Legno. Perfetto. Vediamo un po' se qui posso. No? Di qua. Scusate, devo fare questa cosa perché mi piace sentirlo ogni volta. Perfetto. Banco da lavoro. Come cazzo lo faccio? Apri il menu edificazione con B. Ma... Sì. Questo perché c'ho anche mouse e tastiera. Ma se fossi solo col pad... Che cosa dovrei aprire? Sto cazzo, dici? Non ho sfere pal. Ok. È su. Mettiamo il banco da lavoro. Tieni premuto. Vabbè, ho capito, va. Già è difficile la vita. Scegliere la ricetta. Posso avere delle mutande? Mi dispiacerebbe affatto. Ascia per abbattere gli alberi, torcia portatile, mazza di legno. Non è proprio l'ideale per affrontare un pal. Allora, andiamo con l'ascia di pietra. Che sia produzione. Ottieni prodotto. Ok. Scegli la ricetta. Adesso posso tagliare degli alberi per fare anche le altre cose. Andiamo a tagliare un albero, dai. Eh? Quanto volevo mettermi alla prova con un altro survival. Che bello. Level 3. Mi sa subito un gioco che vuole fare tante cose, ma ha come l'impressione che nessuna di queste sarà fatta veramente bene. Così, è a naso. Ma poi è giorno o notte, perché pare che ogni cinque... Perché mi passano le nuvole sulla testa? Mi è uscito oggi in Early Access. Ah! No, mi fa un culo come un paiolo. Ho già capito. No, no, no. Scherzavo. No, so Jimmy il cavernicolo. Non me devi far male. No, no, no. No. No, no, no. Scherzavo, scherzavo. Non essere arrabbiato con me, DinoSom. E' stato un errore delle gioventù. Non ti volevo fare del male. Ma quanto cazzo tira cose? Rick, ai dettagli ci penso. Una volta che ho fatto le cazzate, non è che... Allora, pure te. Ma che vuoi? Rick, ma torna a viaggiare tra un universo e l'altro. Cioè, ma io vengo a te che non devi sovvertire la storia di un universo parallelo. Ma scusami. Cioè. Così mi curo? Spostamento rapido. No. Ok. Ci speravo. Ancora! Non si è arreso! Non si arrende mai! Vuole la mia coccia! Ti prego! Ma poi che... Che... Ah! Uh! Gallinaccio! Aiutami tu, gallinaccio! Aiutami! Ti prego! Parlaci tu! Io non parlo la lingua! Chiedo scusa! Legno. Tanto raccolgo. Ma si arrenderà prima o poi? Cioè, secondo me... Possiamo ancora recuperare il nostro rapporto? No. Così non mi pare il cazzo. No, no, no. Vatti a nascondere. No, niente. Non si arrenderà mai. Cioè, finché non mi avrà strappato l'interiora, non si arrenderà mai. Ma poi è lui che fa sto rumore. No, è sempre il gallinaccio, mon. Ciao! Non ti preoccupa, gatto. Non ce l'ho con te. C'ho cazzi ben più grossi. Ma... Ma... Ma basta! Oh... La musica... Si è... No, no, no. Lui comunque ci sta ancora provando. Io cerco di... Ma adesso, tra l'altro, come ci ritorno? Tu stavo prima da qua. Qua dietro. No, no, si è reso, si è reso. Si è reso, ragazzi, tranquilli. È fatta, è fatta. Sto molto tempo di tornare là. Fa a me una palla... Una sfera... Poké, però non intesa come Pokémon. No, no. Come piatto di riso e pesce. E... Ed è andata. Sì, sì, è totalmente tranquillo. Non sta correndo verso me, sta facendo una cosa per conto suo. Che era vero, era vero, ok. Se vado all'amo non ce l'ha più. Non... Ma c'hanno la memoria breve, sì, Pokémon. Sì, sì. Palla di tipo... Non credo che si possa dire manco erba di tipo verde. Non... Guarda, è già rilassato. Si è già dimenticato tutto. Non mi fa venire l'ansia, per favore. Allora... Ma... Quindi, scusa, ma... Il legno? Non c'è. Legno 2. Potenza statistica. A sto punto metto velocità d'attività, perché mi pare che ne farò parecchie. Conferma. Ok. Quindi. Allora, picconazzo. E poi anche... La mazza... A sto punto anche la mazza di legno. Ok. Quindi. Adesso c'ho... Inventario. C'ho... Eh... L'ascia di pietra... Il piccone e la mazza di legno. Apri la schermata tecnologia su un menu per sbloccare la sfera PAL. Ok. Tecnologia. Menu. Sfera PAL. Eccola qua. Il... IT text, perché manca l'italiano. Ok. Quindi però so a quello che mi serve. Se mi serve per catturare un PAL. Ok. Realizza la sfera PAL. Indebolisci PAL con gli attacchi e poi catturi lanciando la sfera col comando Q. Ok. Che mi serve? Alla... Inventario... Tecnologia... Dove sta il box? Box per PAL. Una struttura dove tenere sotto custodia PAL catturati. Un PAL nel box... E la tua base svilupperà intorno a questa struttura. Vabbè. Io la sblocco, ma... Per il momento... Beh... Non sono convinto. Non sono convinto di fare qui la mia base. Cioè... Uno spiazzo del merda. Momentanemente c'ho questo qua, ma... Allora... Quindi devo trovare della pietra. Mi sembra di... Se mi hai fatto equipaggiare tre... Tre cose. Ah, ok. Così si fa. Tiè. Tutta la pietra del mondo per lui. Tutta la pietra del mondo. Tutta la pietra... Pure il pallio! Benissimo. Allora... Comunque... Guardate quanto è bella goccia di Morto Beach. Eh? Ve la ricordavate così? Bellissima. Allora... Vado a creare... La mia prima... Eh... Sfera PAL. Ne faccio un paio tanto per... Qual è il massimo? Ne posso far tre. Ne faccio tre. Tant'altro penso che mi serviranno. Ottieni il prodotto. Ok. Quindi per il momento... C'ho la sfera PAL. Adesso devo andare a catturare... Un PAL. Quindi... Equipaggio la mazza. Questa parte qui fa troppo ride. Comunque ragazzi... Che immagino che non possa essere questo a livello 34. Ok? Cioè... Ci siamo già passati a questa cosa? C'è l'altro c'è l'occhio rosso inquietante? No. Tu no. Allora... Direi che posso procedere... O col PAL gatto... Oppure col... Col coso? Col pollo? Però a sto punto... Cioè come faccia? Non prendo un pollo! Quindi... Ovviamente dovrò prendere quello. Eh sì. Lo so. Eh... Però è meglio di Spider-Man, raga. Cioè... Guardalo. 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 Spuderman? Spuderman? Pensa. Un giornotto. Questo sarà tuo. Mi ammazzerò. Già lo so. Ah non c'è... Non è caduta evidentemente. Ok. Attenzione eh. Momento topico. Attenzione. Livello 2. C'gibi. C'gibi. Ma... Ti è. Ti è. Ti è. Guarda con che... Come un allenatore di PAL navigato. Quindi adesso io c'ho... C'è chi è qui? C'è chi? Ma scusa. Non era mio? Però deve stare a una distanza preimpostata. Quindi siamo vicino e lui sta lontana. Chi è che ha appetito io o lui? E sfamami mangiando con... Eh... Lasciami perdere il pollo. Allora. Pali squadra. C'chichi... C'chipi. Ok. Eh... Me devo mangiare pane? Mangio il pane. Eh... Lo mangio... Questo che è il valore del cibo? Ok. Mazzavo. Quanto pane devo mangiare per questo sazio? Va bene. Quindi prima o poi mi toccherà anche... Nutterirmi del mio... C'chipi. Molto bene. E ora... Eh... Quindi devo trovare adesso il luogo dove fare la mia base. Ok? Va bene. Ok. Mi preoccupa quanto... Il comportamento del buon C'chipi. Che cos'è che sta facendo? C'chipi, vuoi fare all'amore con un altro C'chipi? Cioè, è una cosa che posso capire, eh. Veramente è... Mi spaventa alquanto. Allora. Madonna. Poi... Il rumore del movimento suo è fastidiosissimo. Vabbè, a sto punto la prima base la faccio qua. Ho... Ho già capito. Ci stanno pure pecare. Eh... Quindi... Va bene. Poi che fai? Non lo attacchi? Non lo prendi un lambol femmina? Giusto per arricchire il roster? Adesso ti do... Ti do fuoco C'chipi numero due. Vabbè. Allora lo faccio qui. Dai. Ehm... Scusa, eh. Ma... Ok, box per palla. Diventerai il centro... Della mia base. Mettiamola qua. Qua in mezzo. Ti può mettere qua? Ok. Menudo di gestione del box per palla. Missioni. Missioni. Edifica il forziere di legno. Fai lavorare un palla nella base. Ma non c'è base! Non spiazzo! Non c'ho neanche i pantaloni! Vabbè. Allora, C'chipi, guarda. Ti ripongo qua un secondo, eh. Un secondo. Beh, devo andarla a catturare. Che cos'è? Produzione di uova a livello 1, abilità passiva anti-vegetazione. Ma quando è che si usano? E in che modo sti cosi? Quelli nel frattempo dormono. Giustamente il sonno è giusto. Io vado a raccogliere altra pietra. Ciao, Emans. Qualcuno ha provato il codice amico? Non ho provato. Ma secondo te Prince of Persia verrà preso in considerazione DJ del 2024? Secondo me dovrebbe, ma anche per quando è uscito... La vedo tosta. È uscito nel classico periodo maledetto. Quindi... Com'è freddo? Ma come... Ma sto... Ma mi sta uccidendo il freddo rapidamente! Scusa, un attimo. Non ho dei... Della tecnologia per farmi i pantaloni! I pant... Non ti dico tanto! I pantaloni! No, non c'è la tecnologia per far... Cioè, posso costruire il box per palma, ma non i pantaloni! Io non capisco. Sì, ho capito! Ma porca puttana! Ma perché il falò, il falò? Devo fare il falò! I pantaloni! Cioè, porca puttana! Sto coso qui... Forziere di legno... Banco per riparazioni... Sette edificazioni di legno... Vediamo tutto, tanto... Parco antiquato... Freccia... Letto mediocre! Tanto... Ce l'ho per... Per tutto, ok. Niente stoffa. Stoffa. Stoffa non si può fare. Scegli ricetta. B. Ah, mi devo fare una casetta praticamente. Ok, allora... Qui ci ho messo... Sto coso... E qui ci mettiamo il falò e dietro ci costruisco la casetta. Scegli la ricetta. Spiedini di chichipi! Ma, scusa... Il chichipi... Cioè... Andrò... C'ho la carne già? O andrò a uscire e cucinare il mio chichipi? No, c'ho già della carne che avevo in precedenza. Che però scadrà fra poco. Fra tre... Fra tre minuti scade la carne. Quindi mi toccherà cucinare qualche cosa. Cioè, faccio tutta sta roba qui. Bah, che gotte! Inizia la produzione. Va bene. Io... Raga... Non... Onestamente... Non so. Non so. Tra l'altro è sparito il rumore del fuoco. Beh. Questo non mi preoccupa più di tanto. Uovo al tecamino che fa entromagni. Sì, vai. Facciamo sicure. Tutto uguale, però. Tutto... Tutto uguale. Va bene. Eppure un paio di bacchette... Ah... Flambè. Dai. Ok. Eccole qua. Sarà bello avere del suono, ma non c'è proprio in game, quindi... Posso cantare, se volete. Allora... Lei che è troppo nerli access? No. Un salmone. Non si mette no. Allora... Vediamo un po'. Vediamo un po'. Oggetti importanti. Non ce n'ho. Squadra. Ciclopedia. Inventario. Come se ci si nutri... Se si mangiava? No, no. No, ho buttato una palla a cazzo. Perché ho buttato una palla a cazzo? Vaffan... Ma... Fare una casa? No? Forse è di legno, quello lo farò più tardi. Ehm... Facciamo sta cazzo di casa. Fondamente è legno. Allora. La casa la metterò qua. Sotto la montagna. Tiè. Ecco qua. Poi. Volevo tanto giocare a un survival. Sono felicissimo. Guarda. Tiè. 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 Io la lascerei così. Come un set hollywoodiano. Allora. Muro con finestra e legno. Però la costruzione è molto semplice. Cioè... Sono un altro questo. Non è niente di particolarmente... Roppipalle. E visto che dietro ci sta fondamentalmente il muro, posso anche metterci un muro di legno. E sopra un tetto. Un tetto. Tetto spiovente e legno. Scale e legno. Tetto spiovente e legno. Non funzionano così i tetti. Non funzionano così i tetti! Ma... Ma... Ma perché? Un attimo. Ci sta un... Un tetto meno problematico? Muro triangolare perché... Perché devo per forza fare il tetto... Il tetto alto? Devo per forza fare il tetto alto. Allora. Come si... Si ruota? Non me lo fa ruotare, comunque. Perché te faccio una mezza... Una mezza torre campanaria? Allora, dicevamo... Ma io dall'altra parte la voglio fare... Perché... Perché non la... Gira! Gira! Così! Ma anche il collegamento con l'edificio... Eh sì, perché... Vaffanculo! Ma perché? Ma no! Ma no! Ma vaffanculo! Ma vaffanculo! Cioè, speso delle parole... Buone per questa... Questa costruzione qua. Questo sistema di costruzione... Cioè, oppure posso fare... Cioè, il tetto è il legno, ecco. Basta fare questo. Ok, quindi ho sti due cosi che so... C'ho la casa con le orecchie, va bene. Delle orecchie simmetriche e spaventose, però va benissimo così. Ok, va bene. Allora, eh... Beh, almeno si distingue. A sto punto direi che posso andare a prendere ammazzate una pecora... Eh, così... Da avere un secondo... Pall. Sei... Mio! Eh, ragazzi, ma è di design! Ma voi che cazzo capite? È una roba di design per pochi... Cioè, allora... Ci posso mettere un letto qui dentro? Immagini sì. Letto mediocre. Letto di paglia per pall. Che mi serve? Altro legno. Pazza, così... No, i pall, semmai dormono fuori. Adesso non cominciamo... Cioè, allora... Facciamo a liberare un po' di spazio, perché ne è che sto qui a regalare spazio alla natura? Mi sembra che... Potevo restare gravemente offeso, eh? Ve lo dico. Salve! Ma posso rinominare... I miei... I miei... I miei palz. Quale squadra? Non vedo comandi per farlo, quindi... Diciamo... No? Se no, potevo metterli comunque... No, beh, è interessante. Vabbè... Pecora, tu restarei con me per il momento. Dicevo... Come fa? Cioè, comunque... Io posso entrare in casa così? Voi? Eh? No, no, è pagliericcio. PayPal... Non mi pare il caso. A malapena mi c'entra il letto. Comunque... Mannaggia la... Niente, mi tocca... Guarda, se non finisce a bestemmia, eh? Potevi costruire più grossa casa. Eh sì, e va bene che siamo tutti borghesi come voi. Ecco qua. A posto. Ora c'è pure il letto. Costruito casa a Milano, Ale? Sì. 2.500 euro l'affitto, se ti interessa, eh? Cioè, comunque, guarda... Eh... Cioè... Eh... Vista... Eh... Eh... Non lo so... Eh... Mole Antonelliana, perché comunque... Eh... Sai... Eh... Riesce a vedere anche oltre i confini del Milanese. Da una parte. E dall'altra, invece, c'hai una splendida veduta delle montagne, eh... Della Val d'Aosta. Eh... Quindi, c'è proprio... È un superattico. È un iperattico, direi. Poi, di design, come testimoniano anche, insomma, questi elementi architettonici di grande importanza. Ma, eh... Se dormo, eh... Guarisco? Non lo so, però mi tengo la mano dentro, eh... L'addome, perché così almeno sta bello a caldo. Ok. Quindi, eh... Riassumendo. Pale squadra. Lambol non mi fa... Cliccare sul nome non succede un cazzo, quindi non lo posso eliminare. Appetito. Beh, eh... Ho appena mangiato... Ho appena fatto delle bacche cotte e... Quindi... Sono... Sono pronto per mangiarle. Carne di Lambol. Cioè, praticamente io... Scusami. Attaccandolo, gli ho comunque estratto la carne. Bellissima sta cosa. Crudele. Bellissima. Vabbè, eh... Insomma, usa il box pal per far apparire i tuoi pal preferiti nella base. Io due ce n'ho. Quindi, eh... F. Ecco qua. Pal nella base. Ah, pal nella base ci mettiamo... Ci keepi. Eccolo qua. Tiè. Guarda. Hanno... Inizieranno a cercare un'attività dedicata a loro? Non mi sembra che ci stia riuscendo. Lo vedo... Lo vedo un po' confuso. Non lo vedo... Eh... 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 Ok. Dicevo, punti statistica. Punti statistica. Eh... Velocità dell'attività. Ok. Fermo. I pal senza letto saranno scontenti. Pure. Pure un letto vuole. Senti, allora, io adesso qui li metto un pagliericcio intorno al fuoco. Cerca di fartelo andare bene perché è il massimo che avrai. Ok. Mi piace che fa le scintille mentre costruisco un pagliericcio. Sembra in forma come al solito. Edifica un forziere di legno. Fammo pure sto forziere di legno, ma... Tanto... Capito che... Forziere di legno. Le risorse sono insufficienti. Che mi manca il legno, giustamente. Vado a battere un altro albero. Cazzo, è impegnativo comunque... Mantendere delle scorte di legno. Beh, capitano... Comunque stanno valutando la situazione da anni ormai. Quindi penso che... Ora o mai più... Allora, facciamo sto forziere di legno. Dai. Lo mettiamo qui fuori? Lo mettiamo qui fuori. Ecco qua. Quindi... Cattura cinque... L'humball... Per avere... Porta la base al livello sette... Da quando è che la base ha un livello? L'humball... Ma... Cioè... Che cazzo? Quindi è questo... Potenziamento... Ah, posso potenziarla? Attenzione. Quanto mi è costata potenziarla? Dove sta scritto... Ci stanno delle condizioni per potenziarla? Delle informazioni sul come la sto potenziando? No. Ah, ok. Aspetta. Adesso ci sta edifica mangiatoia, edifica letto di paglia per pal. Ok, adesso ci sta... Adesso ok, perfetto. Quelle erano condizioni. Benissimo. Ok. Va bene. Quindi devo andare a cercare... Cinque... L'humball. Vieni qua, amica pecora. Andiamo a picchiare... Totalmente a gratis... Delle altre... Ma... Sei tu che... Se gli potessi dare un nome... Magari lo potrei identificare più facilmente. Ma no, non è lui che sta cociando. Non è il mio... L'humball. Il mio... L'humball... Lo tengo nella... Nella sfera. Ah, vedi? Ecco, beh... Adesso tutto torna. Picchiamo questo. Troppo, troppo, troppo. 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 Non ho sfare pall. Un attimo. Un attimo che ti palleggio. Un secondo. Un secondo. Un secondo. Ok. Perfetto. No, 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 ma come cazzo è successa sta cosa? No, no, no. Fe... No, no, pecora. Non l'ho raccolta. Ma comunque... Cioè, cazzo. Ma perché ci sono tre passaggi per fare le robe? Mettine uno. Perché tre? Perché tre? Pensi di aver fatto un buon lavoro a che mi guardi soddisfatto? Dimmelo. Testa di cazzo. Pensi di aver fatto un buon lavoro? Che cazzo guardi? Hai fatto un disastro. Ho ammazzato una pecora per niente. Comunque, qui il mio Lumball è chiaramente un cazzo di sociopatico. Gli devo dare un nome per forza. Ma perché non gli posso dare un cazzo di nome? Niente. Una cosa... Cioè, la cosa più basilare... Vado a prendere... Vado a fare cinque palle però, perché sennò... Sicuramente... Passero. È ovvio. Allora, vabbè. Diciamo che... So' confio di roba. Potrei andare a posare delle cose. Tipo... La pietra la posso mettere qua. Il legno, che non c'è poco, lo posso mettere qua. La lana, che penso di aver rubato al povero Lumball. Però, a questo punto, la domanda che mi viene in mente è se il forziere di legno sta nella mia base e io costruisco nella mia base, mi prende le risorse dal forziere? Se dovessi scommettere, direi di no. E invece sì. Attenzione. Vedi? Perché non ne posso fare più di una? Che mi manca? Cioè, mi manca il legno. Come se ho sempre questo problema di legno, è incredibile. A questo punto vado a raccogliere altro legno. Lumball, dammi un po' una mano. Di sboscare sto cazzo di posto. Benissimo. Allora. Scegli ricetta. Ok. Nuovo che mi manca. Frammento di Paldium. Vabbè, ma contento. Bene? Per il momento. Che cosa stai cercando di fare? Ma che vuoi? Ma è pazzo! Cioè, è completamente pazzo. Il mio nabbole è completamente pazzo. Cioè, mi ha preso a cavocciare le palle e poi ha fatto... Ehm, è completamente pazzo. Beh, io disse quello che vestito da cavernicolo... Con un corpo... Non lo so, incommentabile. Andava a prendere e ammazzate i palli. Dove vai? Sei sempre tu? Per come sei arrivato qua? Non lo voglio sapere. Non lo voglio sapere. Vado a raccogliere le pecore. Va bene? No, no. Guarda, questo mo' parte. Tira una capocciata formidabile. No. Preso, preso. Che è? Che è? Che succede? Ma... Non è detto? Qual è il mio? Non sei tu. Sei tu. Cioè, non... Va. Non ci sto a capincazzo. Ecco. Lo sapevo che lo squartava. Tutti te lo devi togliere sto vizio, comunque, di buttare giù dai burroni i tuoi simili. Non è una cosa che fa bene. Va bene? Soffice scudo è una tecnica? Lo sto usando come scudo umano. E lo schiena a buttare. Eh, vabbè. Ho capito. È già... In un attimo è diventato goti. Non volevo, ma... È successo. In modo che dovrà solo altre... Altre pecore. Che però... Io c'ho sto problema con... Con qui, con... Con Norman, che non... Cioè, tende a ammazzarmele tutte. Sono tuoi simili, Norman. Che disastro. Cioè, comunque, di base è... Un survival classico, survival vuoto. Cioè, senza città, senza nulla. Cioè, tutto quello lì che è costruito e presente in questo mondo di gioco è fatto dai giocatori. Ma... No, ci sta, eh. Nel senso, però. Mi sembra che... L'elemento... Dei PAL, per in questo momento, sia... Appoggiato giusto per rendere interessante l'ennesimo... Così, eh. A naso. L'ennesimo survival... Un po' standardizzato. Ripeto. Mi sembra un gioco che cerca di fare un po' tante cose, ma... Allora, lo sai che facciamo, Norman? Io, per la nostra sicurezza, la mia e la tua, ti metterei nella base. Va bene? Ti metterei nella base, tutte e due, insieme a quello lì che hai quasi ammazzato. Mi raccomando, non vi accoppiate, perché potrebbe essere difficile da gestire la questione. Vuoi un... Volete un letto, immagino? Pagliericcio. Va bene. Altro pagliericcio. Qua. Grazie. Questo ha molto senso. E allora a questo punto ne mettiamo poi un altro qua. Bravi, bravi. Ora... Ora... Ti saluto. Ma in tutto questo la gallina che cazzo sta facendo? Edifica mangiatoia. Questo lo posso fare. Credo di saperlo fare. No, invece no. Vedi. Tcnologia. Scudo. La... Scusa, ma a che livello incredibile io sblocco i pantaloni? Cioè, a livello 9. Cioè, a livello 9 sblocco degli abiti. Prima posso fare una pressa. Cioè, posso riuscire a fare una bella pressa. Oppure un set di arredo per la taverna e il legno. Mi sembra giusto. Poi, solo poi, i pantaloni... No, aspetta, non è vero. Ho detto una cazzata. Posso fare degli abestoff. Attenzione. Attenzione. Posso fare degli abestoff. Non so fare la stoffa, ma posso fare degli abestoff. Adesso so fare anche la stoffa. Ma la mangiatoia dove cazzo sta? Mangiatoia. Eccola qua. Sveglia. Gigantesco muro per difendersi dagli invasori. Trappola sospesa. Blocca i palle che ci passano sopra. Ok. Abiti di stoffa, ovviamente sì. E ho finito. Scudo normale. Normale è sto cazzo. Mi sembra... Vabbè. Comunque. Come me la procuro la stoffa? Immagino che c'entri un certo animale da... Da pelo. Da pellicce. C'ho la lana, quindi mi faccio due pezzi di stoffa. Inizio la produzione. Me la fai te? Me la fai te? Bravissimo, Lambo. Sei proprio un tesoro. Sarai l'ultimo ad essere mangiato. Grazie mille. E ora, effettivamente, ha più senso pure il fatto che ci sta... Il crafting in tre passaggi. Ora ha più senso. Vedi? Pian piano dei pezzi vanno al loro posto. Sei veramente un tesoro. Guarda. Apri il menu qua. Dai da mangiare. A carezza. Vieni qua. Vieni qua. Vietta a piavo, perdono. Vieni qua. Dolciotto, dezio. Se solo potessi darti un nome. Magari c'è scritto qua. Guarda e tagli. No. Ma comunque tu non sei quello psicotico. Ecco. Di sesso femminile quell'altro. Scegli... Oh, ragazzi. Attenzione. Presto sarò vestito. E lo... Praticamente questo Lambole sta utilizzando il pelo dei suoi compagni per costruirmi un vestito. E già si nota la perversione. Già arriva la perversione. Ciao Brasafede. Se fosse a mettere in Sardegna quelle carezze andrebbe... Eh, allora. Pasta Fariano e io mi dissocio vivamente. Eh, allora. C'è un'ampia gamma di animali. Eh, con la... Con i quali uno potrebbe avere... Un... No, mi voglio fermare qui. Perché l'ho sollevato? Ma posso lanciarlo? Posso palleggiarci? È solo una manifestazione di supremazia? Che ho fatto? Ok. Ottieni prodotto. Bah, bah. Incredibile. Incredibile. Ora... Ora mi attraverso il corpo col... Con le... Con le braccia. Ma almeno i pantaloni. Non lo voglio sollevare più. Dicevamo. Mangiatoia. 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 Mi ho dimenticato come costruisce. Mangiatoia. Mi serve legno, giustamente. Ma posso... Incaricare... Una delle stelle creature di... Di procurarmi delle... Tipo il gallo di merda che non fa niente. Apri il menu. Dai da mangiare. Questo mangio e basta. Guarda i dettagli. Ma vaffanfia. No, ma io perché continuo a buttare... Ste palle? Niente. Non fa un cazzo. Vabbè. Vabbè. Non mi tocca. Se lo sollevo e... Avrei il menu? No. Com'era così? Ok. Lo lancio contro l'albero. Magari capisce. No, eh. Niente. Vabbè. Prima o poi ti mangerò. Lo sappiamo entrambi. Possiamo ingannarci... Quanto vogliamo. Ma succederà. Ah, mi si è spaccata la cosa. La... L'ascia. No, eccola. Vabbè. Per il momento va bene così. Batto l'ultimo albero. Benissimo. Vorrei potermi muovere però. Ah, no. Non posso perché... Sono carico... A bestie, immagino. Cioè, quindi non mi posso proprio muovere se sono sovraccarico? Cioè, zero? Praticamente... Cioè, volendo stringere, sì. Ma veramente? Vabbè, lascerò te... Nella pietra. Ok. Ho mangiato gli acqui dietro. Un po' nascosta. Ok. Bravi, bravi. Questi sono super proattivi. Bravissimi. Prendete esempio da... Da... Che fa... Che... Che hanno... Che... Che stanno facendo? Stavo confuso. Io mentre dormono... Faccio degli speedini... Faccio dei... Faccio il kebab di Lamble. Ecco qua. Proprio a fianco a loro, così... Nel sonno... Gli arriva l'odorino. Eh? Che bello. Magari svilupperanno un appetito. Potrei darglielo da mangiare? Scusa, ma la mangiatoia ci devo mettere dentro delle cose? Apri. Dai, raga. No, no. Io mangio... Mangio altro adesso. Mangio altro perché devo far mangiare... Ai Lamble... Ai Lamble... I loro simili. Scusate. Scusate. Non si fa, ma... Ma si fa. No, non è cannibalismo, no, no, è un'altra specie di Lamble... È... Proprio tutto... Tutto... Un altro film, una roba... Tranquillo. Dottor Twitch. È rincastrato sulla D. Tutto questo io mi magno le bacche... Cioè, in tutto questo io mi magno le bacche, eh? Per dare il kebab a... Alle pecore. Alle pecore. Io c'è, io passo la notte a fare bacche cotte. Ve lo rendete conto? Allora... Dove stanno le bacche cotte? Detti importanti... Ah, devo ancora raccogliere. Scusate. Tieni il prodotto. Inventare. Ciao, ricercatore di gioia. Buonasera. Il difetto principale è che c'è poco da fare, secondo me. Adesso vediamo, eh. Io vorrei giocarci ancora un po' prima di... Di... Sbilanciarmi. Devo dire che... Non mi ha fatto un'impressione... Calamorosa. Però... Vediamo un po' come... Come va, eh. Come va avanti. Ci sta che magari sia limitato al punto di vista contenutissimo, perché è il primo giorno dell'early access, quindi... Questo ci può anche stare. Allora. Tieni il prodotto. Però... Anche in relazione a quello lì che... Diciamo... È l'impostazione... Della... Fantastica del gioco. Io ci avrei messo anche delle città con degli NPC, per dire. Perché mi sembra l'unico... Poi magari ci stanno, eh. Magari... Sto dicendo una cappella da io. Allora... Metterei una lancia di pietra. Ma assolutamente sì. Assolutamente fattoria. Campo di bacche. Ma... Qui sta... Sta migliorando tutto. Sta migliorando tutto. Attenzione, raga. Posso finalmente mettere a lavorare il pollo a una fattoria di polli. È tutto bello. Dove sta? Fattoria di allenamento. I sursi non sono sufficienti. Mi serve fibra... Legno e pietra. Vabbè. Allora, qui praticamente... Butto via tutto. Comunque, io ve lo dico. Sono l'unico che lavora, eh. Poi andate a dormire, merda. Ma mettiamo attacco. Ma che cazzo ci frega. Anche se è preso totale... Confermo. Anche perché poi la gran parte del gioco... Eh, credo che sia su... Senza credo, eh. Così. A Skechum... Credo che sia morto qualche tempo fa. Questo è... È lo zio che cerca vendetta. E lo fa... Schierando pecore contro la loro stessa gente. Come è l'arma danneggiata? Giustamente l'avrò sfonnata. Ma la posso riparare? No? Ah, ripara. Kit di riparazione. Come è kit di riparazione? Ah, questo è il kit di riparazione? Prima che faccio l'allevamento. Tiè. Tiè, guarda! Perfetto. Grazie. Grazie, pecora. Tutto questo la gallina è ancora... Niente, vero? Ma dove sta? Sta là. Nulla facente. Vabbè, vado a catturare un altro Lumball e... Userò la mazza. Questo giro dovrei farcela senza problemi. E fu così che fu lui a finire in un crepaccio. Perché ti chiamano cattiva? Eh? E meo? Eh, ho capito. Oh! Meno! Ma dove stanno le pecore? Perché ci stanno più pecore qui? Gatti, dove avete messo le pecore? Ma solo... Ma che è come GTA... Che ne so, Vice City che ti... Ti carica solo un tot di auto alla volta E trovi sempre le stesse in giro In quel modo? Perché prima qui ci stava almeno una pecorella E che è quella lì che poi... Lanciato nel vuoto... La sua compagna Fino a provocarne il decesso. Magari qua sopra trovo qualcosa Magari qua sopra... Ma perché? Ma ma perché c'è la milizia? Ma perché c'è la milizia? Ma come milizia? Ma non c'era nessuno Nesto mondo E mo c'è la milizia Cioè, perché c'è la milizia? Quei fucili, peraltro No! No! Non volevo! È stato tutto un'incomprensione! Ma perché me li trovo a scappare ancora? Ma guarda! Poi quanto so accaniti! Ma sta zitto sta... Ma no! Cioè, col teletrasporto La milizia col teletrasporto Ma perché mi devono ammazzare per forza? Arrestare? Do you know arrestare? Ma ma le... Cioè, ecco... Le stelle di sospetto, praticamente Ma io non capisco Che poi non posso manco portarli alla base Per farci combattere i... I cosi I... I pulse Perché so Delle pippe mostruose I miei pulse Sì, vabbè Ho capito Basta Cioè, basta! Ho dato due mazzate A un NPC Messo l'apposta Per darmi delle indicazioni Che speravo di derubare Evidentemente non posso Ma no! No, questo non è il mio, vero? Non mi avete ammazzato Il mio... La mia pecora Non mi dite che mi avete ammazzato la pecora Vi prego No, raga Ma hanno stermi... Ma hanno sterminato tutti Ma hanno sterminato le pecore! Vaffan... No, no Basta Mi frega niente il livello Te sfondo Io te sfondo Vieni qua Io te sfondo Vieni Non mi frega niente Non mi frega niente Hai perso Non mi hai perso Ho vinto Sono il vincitore morale In modo stavo io Qui, immagino Giusto? Sì Ok Ma... 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 Ma come? Ma come? Ma... Ma... Ah no, ecco i miei... Ecco i miei veri Credo Sì Ok Tutto questo Tutto questo Perché mi sono azzardato A prendere Ad accettare Un NPC Non è questo Il modo in cui si reagisce A una legittima Alzata di culo Dove sta Il... Il... Il coso Il palmon In fin di vita Fanculo Testati Poi ma neanche la posso luttare Tra l'altro Non la posso La posso trascinare Fra le fiamme Vieni qua Vieni qua Anzi Via Mi sono appena reso conto Che mi sono comportato Esattamente come La mia pecora Quindi Beh Vale il discorso Tale Cane Tale Padrone Ma dove sono finiti tutti? Sono qui credo Ah ok Quella però può essere curata Ok Quindi Adesso se le rimetto qua Forse riappaiono Sì Ok Può essere curata Ragazzi Meno male Ero molto preoccupato Allora dicevamo Questo recinto qua Richiesto allevamento Allevamento che cosa? È un'altra tecnologia? Va bene Nel frattempo Faccio anche Un campo di bacche Va E lo farò proprio qua vicino B Grazie Grazie eh Grazie Comunque è arrivato C'è stato anche un momento Di forte pathos Attenzione Io però Visto che ci sta la milizia Voglio trovare una città Adesso Ok Pascolo in corso Questa qui adesso sta pascolando Per Darmi cosa? Nuovo? Vabbè Non mi faccio domande Ok? Non è un problema Tanto io devo sempre andare a catturare Delle altre creature Quindi Perché questo fra sette minuti Tornerà a lavorare E Ha fatto l'uovo Ha fatto l'uovo Bravissimo Cicchipi Bravissimo Bravissimo Semina Sì L'hambal ha mangiato Il kebab di l'hambal Sì Sì È ufficialmente Un cannib Non lo so perché Sto esultando Però Sappiamo Che Eh Era Un momento Che Sarebbe Ci sarebbe stato In questa diretta Il primo atto di crudeltà gratuita Nei confronti di un povero Pal E di perversione Sì ma che sega Enrico Ma poi per chi ci dove sta sopra 300 litri d'acqua Eh Quindi adesso devo aspettare Magari non camminarci sopra Ma sapete che non ho mai più visto Un Lumball Da quando ho catturato I miei Non è possibile Non è possibile C'è nessun po' eh Volevo fossi un attimino più Più rapido Vabbè Dai Ma ecco che cosa Devo riparare anche questo No io voglio riparare quello che ho nel Ah no Ok mi fa riparare tutto Credo così Ok No no Fermo Quindi ora È tutto riparato Un cazzo è riparato Cioè ho riparato Il cazzo di tavolino E ovviamente adesso non posso più fare Chietti di riparazione Beh mi sembra Mi sembra il minimo Mi sembra il minimo Chiaramente Tanti a sto punto Tanto vale Orendere ammazzate Non riesco Apparentemente Non si può dare un nome All'animaletto Cioè Almeno per il momento Non si può Ed è una stronzata Non me lo chiedi a me Però Cioè tanto vale Che mi faccio una nuova ascia Senza che sto qui A soffrire così tanto Non ne faccio un'altra E vaffanculo Anzi la faccio fa Che lì La pecora La pecora sta Sto lavorando Vabbè La che faccio da me Devo per forza Premi e esche Per lì mettere io Cioè Cioè sta un Tasto rapido raggiungibile No Adesso posso anche buttare Ciao Crono Vi ricordo che è Early Access Sì Beh non è che ho chiesto La possibilità di Costruire un'astronave Crono Più che altro Quella di Ridare il nome Cioè rinominare I miei Pulse Ciao Fizio Grazie per questi 45 Come gli anni Di mostrare Beh è stato anche Generoso Sì si può Quando vengono catturati Non so se anche dopo Finora non mi ha mai Permesso di farlo Cioè come quando Vengono catturati Li ho catturati Diversi ma non mi Apparsa L'opzione O è Nascosta male Adesso comunque Riprovo Dopo No perché Cliccato sul nome Non ci sono tassi A schermo Che mi indicano Possibile farlo Quindi Scusate la domanda Ma sto gioco Dove essere una Supercazzatona Ma in realtà No Secondo me Mi pare un titolo Più che godibile Anzi secondo me Anche se non ci ho giocato E anni luce Avanti a Pokemon No No allora È proprio un campo È uno sport diverso Che rispetto a Pokemon Proprio uno sport diverso Pokemon è un gioco di ruolo Sì Basato sulla cattura Di creature E E va bene Con delle Assonanze Per quanto riguarda Il monster design Ovviamente Insomma però È quello Mentre Questo è Un survival Gestionale Con elementi Rolistici Che ci sono Tutti i survival Gestionali Proprio È uno sport Diverso Per quanto mi riguarda Non è necessariamente Una cazzatona Ma Nel senso Lo deve dimostrare Strada facendo Non il primo giorno Di The One Di Scusate Di Early Access Però Cioè Anni luce avanti Non direi Che cazzo vuoi Che cazzo vuoi Ciquipi Selvatico Lato tecnico Vabbè Lato tecnico Vabbè Non è Non è sorprendente Ma Ci sto giocando Con una 3080 Ti Dai Però Nessuna Non so Tra quelli Che dicono Che Game Freak In questo senso Dà il massimo Perché se lo dà Il problema È La quantificazione Di quel massimo Però Anche qui Diciamo che è un po' Discorso diverso Ma tipo Totalmente Però Guarda Apprezzo il fatto Che Ti interessa Perché Qualcosa ce l'ha Ce l'ha Cioè Ci sta Che Che Abbia modo Di Dare prova Di Del suo Valore Eventualmente Io sto cercando Disperatamente Delle altre pecore Ho visto Delle altre pecore Datevi a polli Di maledetti Oh Eccole Finalmente Pronte Essere Intontiti A suon Di Bastonate Allora Sai zitto Non c'è L'opzione Per dargli Un nome Scusami Scusami Ma dove L'hai vista Non posso interagire Con un cazzo Qui dentro Sì Sì È su Unreal Engine Giusto Sì Non so se ho un'altra Sfera Forse no Quindi Vado prima Prima di Tentare di Catturare A parte Basta che guardo Nell'inventario Infatti Non ce n'ho Quindi devo Tornare A casetta Sennò ti fai Un mese Di 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 Cosa Di Game Pass Per provare L'early access Su Game Pass Cioè devi salire Di livello Per ridare Per dare Un nome Alla creatura Vabbè Posso dire Di apprezzare Molto questa Scelta Ma Tant'è Allora Cichipi Ha mangiato Uovo Cioè Raga Quello Non glielo Devo Da mangiare Io E qui Il cannibalismo È stato Spontaneo Non Non voglio Avere nulla a che fare Con questa cosa Non voglio Avere nulla a che fare Ma Forse presto Avrò qualcosa A che fare Altre bacche Dicevamo Allora Mi faccio Però questo Sto giro Lo voglio Io Dove sta il cibo Devo ancora raccogliere Palla Sta cosa Allora Questo Torna a lavorare Questo Va qua Questo Va qua E torna A lavorare E sono Quattro I Lavoratori Quindi adesso Posso aumentare Di livello La base Di figa Banco di lavoro Per strumenti Per PAL Ok Tecnologia Dove sta Banco di lavoro Per Strumenti Per pal Ah c'è un banco Eccolo qua Il banco Riparazioni L'avevo anche Cioè ce l'avevo Proprio L'ho ignorato Scusate Colpa mia E' tutta colpa mia Banco da lavoro primitivo Banco per riparazioni Eccolo qua Ma si Pensateci voi Va No Ok Vabbè, io finisco di programmi risorse qui intorno Pazzo, che velocità fate lana e uova? Complimenti Cioè, già si può fare il raccolto? Ma perché non ci pensate voi, scusate, sto io che devo stare qui a lavorare Non posso fare un'assegnazione manuale? No, evidentemente no Ah, e non hanno letto? Ci ho solo tre letti Ok Sì, voglio che tutta sta roba sia automatizzata, però Il bello di avere questi amici è proprio che non mi devo occupare di queste cose Potete rigare voi? No Niente, devo dire che io Aspetta, vado a costruire un altro letto Prima che questi qui cominciano a lamentarsi del fatto che Li brutalizzo Che mi manca? Manca tutto Sì, comunque, raga È chiaro che Per apprezzare questo titolo ti deve piacere Ovviamente La formula survival In primis Poi Senso Chiaro che c'ha degli elementi Che lo rendono più particolare E bisognerà capire quanto poi sono implementati bene Sul lungo periodo Però La base è Essere Comunque Non dico necessariamente appassionato Comunque Apprezzare le riduzioni I titoli survival Perché Questo è Voglio sperarlo Anolino Cioè io Questo lo voglio sperare Non lo do per scontato Ma lo voglio sperare Cioè Scusami tanto Ma quello lì Porta le uova Alla cosa Alla ciotola loro Non è dice Penso anche al povero padrone Il rischio di dare inaccettata È molto Molto consistente Fanno un po' ride però Allora L'arco non lo posso fare Posso fare La lana Anzi Sa che c'è Faccio Massima lana Inizio la produzione E la lascio qui Per quando uno Si stronti Si sveglia Io nel frattempo Ah no Aspetta Prima nulla Perché c'è una cosa Che devo fare io E fare Le sfere Facciamo Cinque Inizio la produzione Queste me lo accafalle a me Ok Ok Tieni prodotto Mentre Questo qui Lo faccio fare a loro Nel frattempo Vado a cerca Cioè Rivado a cerca La pecora Non mi ero fatto Manco la torcia Ma Abbiamo detto Che non c'era Danno da caduta No? Giusto? Speriamo Prendili Mentre dormono Vi vedo Tutto questo perché Devo catturare L'ultimo Lumball Per la missione Eh Posto Preparati Accuratamente E affronta il boss Della torre Del sindacato Di reni Quindi ci sta Ci sta Effettivamente Un mondo Cioè esiste Un mondo Ok? Non è So solo io Disperso Tra le montagne Sarde A fare cose Credo che la torre di reni Sia quella È una torre No Cioè gli voglio dare Assur Considerando che poi Il primo giorno Di early access Assolutamente Il beneficio del dubbio Glielo voglio dare Perché Per me si potrebbe Rivelare Cioè potrebbe Anche crescere Bene Lo voglio dire Tutto questo Adesso vado a dare Anche una torturata A un gatto Non Sempre nel gioco Eh signor Twitch Sempre nel gioco Voglio precisarlo Che cazzo Sei tu Ti voglio Eeeh Volevi Guarda che io ho fatto Le scuole A Okuto Mi devi lasciare Perdere Da parte che So io che ti ho attaccato Ma Allora Siamo pronti Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Riesco Riesco Riescono qua Ecco qua Ecco qua Ucrates Molto bene Per quanto riguarda La seconda domanda Ovvero se puoi entrare Nel mondo condiviso In autonomia Questo non lo so Credo che dipenda Anche dalle impostazioni Che hanno scelto loro Eeeh Però Io Credo di sì Perché fondamentalmente È come Come un server Il mondo che crei Eeeh Credo eh Eeeh E che poi Il fatto che tu possa giocare Con gli amici È Assolutamente Scontato Perché Comunque il titolo Eeeh Si può giocare In co-op Con Un tot Di persone E nel momento In cui tu vai a creare Il mondo Ti viene detto Se vuoi aprirlo Al multiplayer Quindi Immagino che tu possa Invitare Chi vuoi Ma non trovo più i gatti Prima Ce ne erano 500.000 Non ce ne stanno più Eh bravi Svegli all'alba Perché se Si lavora Su Quindi Se io adesso Ci metto Ucratess Che è Un animale Notturno Teoricamente Lui magari Lavora la notte Che ne sai Intanto le lascio qua Io stavo C'è questo da fare Nessuno Ci si mette No Nessuno Stanno tutti a pascolare Che ve pascolate Niente Ma pensa ci deve Un banco Un banco da lavoro Per strumenti Per pal Questa cosa qui Mi manca Non capisco Dove sta Allora Banco lavoro Primitivo Box per pal Paragato normale Eccolo Due punti Costa Io ce n'ho Non lo so Va bene Ok Quattro Ce n'ho quattro Eccolo qua Segheria Palle competenti In abilità Falegnameria Già si fa complicata La questione Ma alla fine Com'è sto gioco Cazzo ne so Già salita Jumpy Ho iniziato Un'oretta e mezza fa La progressione È abbastanza lenta Quindi Però ti dico Cioè Per quello che è Ovvero Un survival game Di base Diciamo che C'ha i suoi momenti Per il momento Di minimo a questo Io ce lo vedo Un po' di potenziale La segheria La farò Che si sappia Qualcuno Mi viene a fare La lana No Nessuno 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 fa la lana Per me Credibile Allora Perché mi costringi Ad essere Ad essere Una persona Male Vieni qua Mi devi fare la lana Qua Grazie Credibile Ma poi Pure te Ma Hai Raccolto Ma Semina Anche No Non ha Semina Tra le abilità Possibili Scusa Se ce l'hai Semina Tra le attività Possibili Su game pass Non funziona Ci sto giocando Su game pass Quindi posso dirti Che funziona Pure questo Non ce l'ha Tra le attività Possibili Ok Quindi mi tocca Trovare Una Un'altra Creatura Che lo faccia Nel frattempo Sono affamato Pvp ancora Non credo Che ci sia A proposito Ah sì Devo fare il letto Per i pal Va bene Che ero No 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 Scusa Va bene qui Va bene qui Va bene qui Bene prodotto Scegli la ricetta Per il momento Posso così Perché Mi manca Ma Per dire Ferma Fermo Vieni qua Potresti per favore Buttare giù Un albero Non lo stai facendo Ma Ma Perché non lo stai facendo Avevo stabilito Che l'avresti fatto Vieni qua Ok Se ne sbatte i coglioni Molto bene Tu invece Visto che non stai facendo Una cippa Mi raccogli La La pietra No eh Vabbè Ci abbiamo provato I punti statistiche utilizzati Ok Inventario Attacco Anzi a statistiche Lo giro Mettiamo attacco Fermo Tecnologia C'ho altri punti Ce ne ho quattro Allora Io penso che mi farò La lancia Ce l'ho Segeria Io nel dubbio Me la faccio Poi Arco incendiario E le frecce Che apparentemente Si fanno separatamente Le farò più avanti Allora Progetto Passo così Mi dobbiamo raccogliere Altra legna Per fare delle robe Però la raccolgo in giro Mi raccomando Hai mangiato a sbafo Maledetti Tu questo Stavo ancora cercando I I gatti E quello? Sì ma dovrei andare in giro Con almeno Lo sai Cioè adesso vado in giro Col Col coso Col Che cos'è quello? Col maledetto gufo Diario di un naufrago Ok Eccolo Certo lo potremmo chiamare Che so Gattivo No E' andata E' andata Perfetto Quindi adesso vado a consegnare Qui il gatto Vado a prendere Il gufo E vado a tentare Di catturare Qualche altro Pal In tutto questo Non mi sono spostato Di Cioè mi sono spostato Di 15 metri Dal campo base Ma è cut In inglese Mi sa che se lo sono perso Appunto Visto che hanno comunque Fatto La traduzione in italiano Forse l'hanno fatta Con gli A Che ne so Magari Sarebbe stato Caruccio Allora Invece di Volare Nel nulla Potresti venire Con me Li metto al lavoro Tu che cosa sai fare? Sai per caso Aspetta Aspetta Sai seminare? Non asseminare Che se non so Asseminare Vabbè A posto Troverò Qualche Bestia Che sa Asseminare Ok Ok Allora Già che ci siamo Mi fai un paio De sfere? Grazie Andiamo va Andiamo va Attività 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 Possibile Lavoro Manuale Allevamento Trasporto Sì c'è scritto Gattiva c'è scritto Raccolta Ma non semina Sono due cose diverse C'è Deve romper il cazzo Per forza Mentre Questo Chi sarà Questo Questo è veramente Infatti Lo trasformerò In cibo Al più presto Sei Abbastanza molesto Fattelo dire Grazie Mi costringono A ispirare Terrore Nei loro Animi Instillare Dell'angoscia In queste piccole creature Ancora Ma basta Porca miseria Va via Guarda che È cattivo Qui Grades Io te l'ho detto È una persona Veramente Depregabbi Sta facendo una strage Tra l'altro Di sua sponte Vabbè Grades Moderazione Ok Un po' meno Un che credo Che sia in fin di vita Quindi teoricamente Potrei anche Catturarlo Ma non mi interessa Uno scrigno Sfera mega Come dicevo Io ho visto solo una piccola parte Quindi Il beneficio del dubbio È assolutamente Accordato Perché per esempio So che c'è il mount Delle Dei pal Ma Ovviamente non ho visto ancora Dei Dei pal Adatti allo scopo Considerando che Probabilmente Questi livello 35 Srebbero pure adatti Ma mi sfondano Ciao Immortal Secondo me il potenziale ci sta Che si riveli una cosa Piacevole Però Chiariamoci Quello è Alla base È un survival E da questo Da questo fatto Non si sfugge Quindi stiamo esplorando Amico mio Beh Già che esploriamo Ti faccio fare esperienza Ammazza Quei Lumball Vai Scelgo te Per Per massacrare Volevi Volevi Tanto col fatto Che quelli Se mangiano Una roba Che allevano Dovrebbero essere Sufficienti Quelli della base Non devo fare niente Vorrei trovare Qualche altro Pal Magari Di un tipo diverso Prima l'avevo intravisto Uno Sembrava una specie Di pseudo fantasma Oh Un pinguino Un pinguino Quello potrebbe essere Interessante Un pinguino Allora Amico gufo Ora Oh è quello Più tardi amico gufo Quello più tardi Questo che è Livello 6 Questo è perfetto Per noi Allora Per favore Moderazione 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 Moder Moderazione Non Posso Posso dirgli di attaccare No Wow Wow Con la tua posizione Le mani Posso unire Il giacca Il cavato Wow Preso Da Attaccalo Te Oh Tiè Guarda No che Ma che Sta diventando Veramente una cosa brutta Si è messo Sotto Le palle Di sto cazzo De De mammut Aspetta Lì c'è una costruzione Vabbè Senti Sai che c'è Prendiamo Questa Volpina Che era Stanno litigando Fra di loro Ok Devo farmi L'arco Capito Preso Vai Ok Ok Questa è andata Ottimo Ottimo Perché adesso L'ha indebolito Ma Non al punto No Non al punto Da permettermi Di attaccarlo Mi fa un culo Come un paiolo Meglio lasciarlo Perde Anzi Guarda Vedo proprio Un uovo Quello è un uovo Però Stanno emergendo Delle robette Lo ribadisco Potrebbe sorprendere Anche perché poi ci sta tutta la questione del Che ha cominciato a combattere Ci sta tutta la questione del Degli accoppiamenti Delle evoluzioni Ma È aggressivo Sto pinguino È andata Quindi Vediamo un po' Questo Anche questo Sa fare raccolta Questo sa fare irrigazione Ma non semina Nè raccolta Faffanculo Salve una domanda Smantella porci Ma posso fare una partita solo E ponermi a giocare con amici Usando lo stesso pg Credo che tu possa Però sappi che ci sto giocando Da un'ora e Cinquantasei Quindi Non ti so dare una risposta Proprio Come dire Circostanziata E E Pienamente Come dire Fondata Vado un po' a braccio Mi pare di sì Da quello che ho visto Diciamo potrebbe Sì Guarda Un po' meno No Un po' meno Di potrebbe Anzi Un po' meno Di può E un po' più Di potrebbe Questo è Spostamento Rapido Sbloccato Ok Quindi posso tornare Anche alla base Da qui Rapidamente Ottimo Sì Ci dovrò giocare In multiplayer Almeno Da quello che so io E di nuovo Va lo stesso discorso Fatto Con Smantella porci Sì ma Quello lì è Un bastardo Se la sta prendendo Con tutti Fantastico Però ha anche Poca vita Quindi potrebbe Essere L'occasione Giusta Per beccarlo Cioè sarebbe Sarebbe incredibile Se riuscissi A prenderlo Inventario Come l'equipaggio Le sfere Speciali Sfera mega Vabbè Io ci posso Provare C'ha poca vita Ha fatto un massacro Ha fatto un massacro Questo Ha fatto un massacro Io ci provo Sì Sì Sono sempre carico A bestia Però Preso Dai Dai Vaffanculo Non è sfere Palla Secondo me Non ce la fa Vabbè È andata così Meglio che Mi teletrasporto Perché Bella che è andata Ragazzi Io devo Devo lasciarvi Però Penso che ci giocherò Ancora un po' Cioè Non Non ora Ma Una possibilità Gliela voglio dare Perché Devo dire che mi stuzzica Mi intriga E non posso dire lo stesso Per Titoli Con Delle chiare Somiglianze A questo Specifico Prodotto In due ambienti Diversi Tra l'altro Lato survival E lato Collezione di mostri Detto questo Ragazzuoli Dovrebbe esserci La signora Fletcher Sempre che Abbia Di nuovo la connessione Aveva dei problemi Quindi Cerco un attimino Di capire Se si sono risolti Comunque Per il momento Vi saluto Vi auguro Un buon fine settimana Un abbraccione Vado A finire di lavorare E a riposare Successivamente Le mie stanche membra Ciao amici Buona serata Un abbraccio